Siamo a Monte di Procida, siamo con Floriana Schiano Morirlo di Onda Civica e siamo qui al Laboratorio delle Arti di Via Torriore. Allora Floriana. Alle mie spalle ecco il Laboratorio delle Arti. Possiamo vedere all'esterno in che situazione è versa. È ovviamente fatiscente, sporco, degradato. È volutamente così. Purtroppo non c'è nessuna volontà di riqualificazione. All'interno non ne parliamo proprio. La situazione è disastrosa. Questa è stata una struttura che ha visto crescere tanti ragazzi di Monte di Procida. È stato un grande riferimento per giovani e associazioni del luogo che l'hanno utilizzato come punto di aggregazione, come punto di formazione per eventi, per spettacoli e poi mano a mano è stata accompagnata al degrado. Questo Laboratorio delle Arti ha visto crescere giovani che oggi riscuotono enorme successo nel mondo dello spettacolo, quindi del cinema, del teatro, come Lucia Imperreca, come i fratelli Cangiano e tanti altri ragazzi che con professionalità diverse lavorano in questo settore. Purtroppo oggi una realtà simile a Monte di Procida non c'è, manca e questa è chiusa. Dopo tante chiacchiere ci rendiamo conto che sono solo chiacchiere ma che in realtà non c'è mai la volontà di fare i fatti da parte di questa amministrazione che l'ha volutamente chiusa diversi anni fa. E ci auguriamo che oltre alle parole possano sopraggiungere i fatti per la riqualificazione di un punto importante di aggregazione per i giovani di Monte di Procida, ma per le famiglie e per tante associazioni. Mi sembra quasi come se si volessero allontanare i giovani piuttosto che avvicinarli al proprio paese, alla propria cultura e alle proprie tradizioni.